Se non conosce parte, che la sacramento fai, che muore, che non si, o che non si no. Considerate che questa è una donna senza capelli e tante nobili, senza risposte per sapere. Voi sugli occhi sui sui suoi tempi, sono una rana sui tempi. Unità, questo è stato. Vi comando queste parole, compitele nell'evacuatore.